Lo scenario inverso e il Teatro Carignano di Torino, cosa significa? I due artisti, Pino Musi che è un grande artista nello scenario della fotografia italiana e Daniele Marzorati che è il vincitore del premio Agar Tarte 2015 hanno lavorato insieme e separatamente sul Teatro Carignano è un'interpretazione che hanno voluto dare in attesa per la persona che generalmente si reca a teatro a vedere lo spettacolo è un'interpretazione dietro al palco e dal palco quindi possiamo vedere il palco, possiamo vedere le apparecchiature, le macchine del teatro e possiamo anche vedere il palco durante l'allestimento di uno spettacolo che è una parte molto affascinante, una parte dove si dà la vita ad uno spettacolo e che purtroppo lo spettatore non vede mai oggi con queste fotografie gli spettatori che verranno a Teatro Carignano potranno anche attraverso le fotografie vivere un'emozione differente del teatro quindi è un punto di vista della platea, è un punto di vista dei trollequinte per scoprire i segreti, i trucchi del teatro esattamente che questi due fotografi hanno interpretato in due differenti modi molto personali che oggi in questa mostra però riescono a comunicare tra di loro è stato molto affascinante assistere a questa creazione e a questo lavoro perché i due artisti si sono sempre durante il periodo del lavoro che è durato alcuni mesi si sono sempre parlati e hanno sempre avuto dei momenti di grande riflessione grazie